Grazie a tutti. 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 Andiamo un po' a spiegare innanzitutto come si svolge l'evento perché dopo diverse edizioni in Trentino adesso invece si svolgerà nel Mantovano. Andiamo un po' a spiegare l'evento. Sì, lo scorso anno durante le finali in Trentino ci è venuta l'idea di organizzare questa manifestazione nel Mantovano. Detto fatto con il Presidente del Comitato Provinciale Giancarlo Rizzi che ringrazio subito. Quest'anno abbiamo chiesto la disponibilità di 5-6 società mantovane per ospitare questo evento. L'evento si svolgerà da domani quindi 28, 29 e 30 luglio nel territorio mantovano. I campi interessati sono Cavriana, Ceretta, Castellaro, Castiglione e Medole. Però faremo base logistica a Guidizzolo dove ci sarà il centro di aggregazione dove verranno distribuiti i vari pass dove si pranzierà e si scenerà tutti insieme quindi abbiamo fatto in modo che l'aggregazione sia il punto fondamentale di questo evento. Due parole sull'evento. L'evento non è altro che le finali nazionali giovanili quindi i club italiani finita la fase regionale si scontrano nella fase nazionale quindi le regioni presenti sono Lombardia con 7 squadre il Piemonte con 4 squadre, il Veneto con 6 squadre, il Trentino con 7 squadre. Quindi 24 formazioni partendo da giovanissimi fino a 12 anni, allievi fino a 14 anni e i uniores fino a 18 anni. Quindi under 18, under 16, under 14. Questa è la fascia maschile e femminile quindi sarà un evento importantissimo soprattutto per i ragazzi per fare aggregazione, per fare attività insieme e soprattutto perché c'è un grande agonismo tra di loro ed è una cosa importante. Allora prima tra l'altro insieme a te abbiamo fatto anche un punto in generale dove si poi disputeranno questi incontri quindi i campi, vi facciamo vedere anche nel dettaglio la locandina perché l'avete vista tra le nostre mani però abbiamo anche una grafica per andare un po' a ricordare quello che è l'evento che ci stavano raccontando la vediamo ovviamente nel dettaglio per vedere ovviamente i giorni di riferimento che li ricordiamo sono 28, 29 e 30 luglio quindi si partirà già dalla giornata di domani e i campi che abbiamo raccontato e ricordato ovviamente anche grazie all'aiuto di Benur Tondini. Voglio sapere qual è poi la formula che è stata poi effettivamente scelta per la fase finale nelle varie categorie coinvolte. Benissimo, abbiamo fatto un esperimento consapevoli, quello dico che senz'altro non accontenteremo tutti ma era una formula diversa per fare in modo che tutte le finali giovanili possono essere seguite dai ragazzi quindi se di solito ogni campo ospitava una categoria e poi faceva la finale da sola quest'anno abbiamo fatto in modo di fare nella giornata del venerdì tutte le fasi preliminari quindi sono gironi da quattro squadre, ci sono due semifinali e una finalissima quindi il venerdì la fase preliminare quindi gli incontri due semifinali il sabato alla mattina tutte le finaline terzo e quarto posto quindi su tutti i campi in contemporanea ma nel pomeriggio Formula Nuova faremo dalle 4.30 un incontro alle 6.30 un altro incontro alla novità assoluta che in notturna faremo la finale Juniores sul campo di Cereta per poi tornare la domenica mattina a fare altre tre finali alle 9.30 a Cavriana, alle 10.30 a Medole e l'ultima finale sempre a Cavriana alle 16.30 delle Juniores femminili quindi abbiamo fatto in modo di produrre un calendario e questo ringrazio Bonando che è il Presidente della Commissione giovanile che insieme ci ha dato una mano a redigere insieme al Comitato Mantovano questo calendario per far sì che l'esperimento dia la possibilità ai ragazzi di essere comunque visti da tutti gli altri compagni quindi c'è qualche partita che si sovrappone nella fase iniziale ma poi nelle fasi finali e fasi importanti possono godere di un pubblico, di un tifo e quindi questa è la cosa bella cioè dare lo stesso spazio che hanno le attività professionistiche quindi la Serie A alla Serie B fare sì che anche il settore giovanile possa godere di questo momento importante quindi seguito anche dai media quindi faremo poi delle riprese le proietteremo, le metteremo sui social cerchiamo di dare grande visibilità ai ragazzi perché se lo meritano perché è fondamentale per noi visto che io faccio parte anche della Commissione giovanile la possibilità che abbiano lo stesso spazio che hanno i professionisti nel tamburello ma poi eventualmente poi dedicheremo comunque un'altra puntata eventualmente poi con i vincitori di questa manifestazione esatto, quindi prima la presentazione e poi giustamente e poi sicuramente faremo delle spazio perché è giusto dare spazio anche a questi ragazzi tra le tante cose belle abbiamo cercato così prendendo spunto dal Trentino scorso anno di fare un centro di aggregazione unico che è a Guidizzolo presso una struttura che si chiama Masec dove si pranzerà sempre insieme e si cenerà sempre insieme quindi a turno arriveranno in più finita la finale della domenica pomeriggio si ritornerà tutti al Masec a Guidizzolo per le premiazioni, per così un aperitivo di saluto tra tutti i ragazzi cerchiamo di fare aggregazione forte per i ragazzi perché sono momenti che si ricordano per tutta la vita comunque, scusami Carter, però dico comunque vada già da come sta spiegando Ben Hur c'è una macchina dietro importantissima quindi già a livello federale mi permetto comunque vada la manifestazione di fare i complimenti a queste persone che si sono messe in discussione per questo evento Sì, Cristian se me lo permetti io farei ringraziamenti prima di dimenticare prima che scada il tempo devo partire dal comune di Guidizzolo che ci ha permesso di utilizzare il parco e tutte le strutture per organizzare il centro logistico devo ringraziare i presidenti dell'ossiettà che ospitano e che stanno in questa mattina sistemando, adobbando i campi naturalmente i vari comuni che hanno messo a disposizione il materiale per far sì che l'evento sia importante Regione Lombardia perché ci sostiene con un contributo la federazione italiana per la tamburello gli sponsor c'è tutta una macchina organizzativa molto importante perché è dedicata ai ragazzi questo è il messaggio che abbiamo voluto lanciare noi come federazione momento importante perché i ragazzi sono quelli che un domani proietteranno e continueranno a portare avanti il nostro sport e quindi è fondamentale che di questo momento se ne ricordino sempre e lo portano nel cuore anche per un domani essere dei dirigenti di società Certo, ne abbiamo parlato, ovviamente stiamo vedendo anche le immagini per quanto riguarda la tappa nazionale Giovani Promesse a San Paolo abbiamo visto le immagini fino a questo momento quindi con le vostre parole comunque si è capito l'importanza che poi dà la federazione a quelle che sono le nuove eleve le giovani promesse e quindi questo è anche importante Stessa macchina organizzativa quindi la commissione giovanile si è attivata in questa occasione è stata la federazione ad organizzare non una società a voler ospitare ma la federazione si è presa in carico l'organizzazione nella mia persona delle finali nazionali naturalmente coadovate, ripeto, dal comitato provinciale nella persona di Giancarlo Rizzi abbiamo fatto questo grande passaggio importante anche poi perché tutto questo poi dà un senso forte anche a un territorio il territorio mantovano che è ubicato vicino al lago di Gara tenete presente che le colline moreniche sono l'entroterra gardesano e quindi siamo in un fazzoletto verde bellissimo dove c'è molta storia, molta cultura, molta arte quindi quando i ragazzi vanno registrati verrà distribuito anche a loro un pensiero da parte della federazione ma anche una brochure per tutti i genitori per tutte le persone che verranno sul territorio grazie all'associazione colline moreniche dove potranno visitare nei vari paesi le bellezze quindi non sto qua a sfermarmi perché c'è la Croce Rossa c'è la battaglia sul ferrino San Martino ci sono tantissime cose da vedere castelli, chiese, chiostri ma soprattutto un paesaggio immerso nel verde e tutto a 10 chilometri da Sirimione quindi dal lago di Gara quindi un posto bellissimo quindi le direttive per arrivare sul Mantovano sono facilissime quindi la Milano a Venezia, la Modena a Brennero quindi si può arrivare facilmente sul territorio Perfetto, quindi abbiamo fatto una bella parentesi per quanto riguarda le finali nazionali giovanili open quindi grande spazio ovviamente alle nuove eleve alle giovani promesse grazie anche a Benurtondini dall'attività giovanile però anche ai massimi campionati quindi iniziamo andando a vedere i risultati per quanto riguarda la 17esima giornata della serie open maschile così commentiamo sia i risultati sia la classifica insieme a Flavio questi risultati poi vediamo anche di seguito la classifica e poi un commento in generale appunto come vi ho detto all'inizio della puntata analizziamo i risultati della 17esima giornata dove vediamo che le prime della classifica stanno facendo comunque vedere sul campo i propri valori vediamo che appunto l'Arcene sia il Pagino Castellaro la Cavrianese hanno comunque battuto le rispettive avversarie con dei punteggi secchi quindi si fa come già all'inizio era capitato che se vediamo la classifica un netto divario tra le prime di testa e le ultime il Sabbionara forse è quella messa per quanto riguarda la retrocessione forse è quella messa meno bene ricordiamo che mancano ancora 5 giornate sono comunque ancora tanti scontri diretti da effettuarsi e vediamo Pagino Castellaro che mantiene comunque quei 5 punti di distacco sul guidizzolo quindi salda la vetta della testa del campionato però ripeto ci sono ancora su queste ultime 5 giornate ci sono ancora tanti scontri diretti quindi potremmo vedere male dei cambiamenti ricordiamo che il campionato di Serie A e lo stesso ancora di Serie B si ferma per poi riprendere il 27 di agosto per dare spazio alla Coppa Italia che ne parleremo poi nella prossima puntata esatto dalla Serie A alla Serie B quindi abbiamo già in qualche modo introdotto anche quella che sarà la pausa però in questo caso vediamo anche qui i risultati la classifica sempre per quel che riguarda la 17esima giornata abbiamo visto la Serie A ora invece ci dedichiamo in questo caso Flavio alla Serie B open maschile anche qui le prime di Serie vincono nei propri campi anzi addirittura il Castel Calepio segno fuori casa contro il Besenello e il Cereta vediamo il Dossena che fatica sempre a mantenere il passo dell'alta classifica perdendo un punto contro il Valle San Felice che di tutto rispetto l'ho guadagnato per la balassa classifica quindi un punto d'oro quindi se vediamo la classifica è una classifica rispetto alla Serie A molto più con delle squadre molto più ravvicinate sia nell'alta classifica che nella bassa classifica lo stesso le ultime giornate sono sempre anche per la Serie B 5 giornate quindi ancora tutto molto in discussione forse ancora anche più che la Serie A Ecco non ci siamo dimenticati di Benurtonini fra pochissimo capirete anche la motivazione abbiamo dato spazio ovviamente a Flavio per andare a commentare i risultati delle classifiche per quel che riguarda la Serie A e la Serie B rimaniamo sempre sulla Serie B femminile però dove invece si è entrati effettivamente in quella che è la fase decisiva della stagione con l'inizio dei playoff questa la grafica con tutti i risultati maturati nelle gare di andata per quel che riguarda i quarti di finale quindi un commento prima da Flavio però poi un commento anche da parte di Benurtonini che tra l'altro è il direttore tecnico della Cavrianese quindi voi vi voglio vedere qui un po' scherzosamento dovremmo fare in silenzio tutte e due perché siamo comunque coinvolti avversari perché appunto io sono un dirigente della squadra di Bergamo del Ciserano e Benurton della squadra mantovana della Cavrianese quindi c'è un po' di tensione in studio questo lo devo dire questo lo devo dire è una tensione proprio con Benurton perché c'è una grande stima e una grande amicizia quindi assolutamente anzi sarà bello appunto trovarci sul campo il 5 agosto nel assegno quindi nel Trentino perché alla fine poi è una bella rimpatriata ovvio vincere è sempre bello però ripeto per noi è importante anche comunque esserci e ritrovarci sì queste che abbiamo visto non so se possiamo rivedere la grafica sono le squadre che si sono qualificate per i quarti di finale si è svolta la la il girone di andata e vedo appunto la Cavrianese e il Castello Alfero che si sono imposte addirittura fuori casa con dei punteggi importanti quindi però ripeto sono sempre partite che vanno vissute sul campo e ogni partita ha la sua quindi adesso io mi fermo e lascio la parola quali sono le sensazioni? oltre a parte la tensione in studio che è palpata sono di grande soddisfazione perché io sono direttore tecnico di una squadra di ragazze che hanno compiuto 16 anni qualche di una 17 l'unica fuori quota è mia figlia che mi aiuta nel seguire quindi ho tutte ragazze che faranno i 17 anni quest'anno e abbiamo centrato tutti gli obiettivi quest'anno che ci eravamo imposti quindi finali playoff per lo Scudetto finale di Coppa Italia e troveremo proprio la squadra del vicepresidente Ubiali sabato prossimo e in più abbiamo le finali nazionali giovanili quindi ragazzi che sono per di più molto impegnati anche a livello parrocchiale perché fanno parte del Gres quindi sono riusciti a conciliare impegni organizzativi perché anche loro sono nel contesto organizzativo e fanno le animatrici però diciamo che siamo contentissimi dei risultati ottenuti perché io le ho prese sotto la mia ala protettiva quando erano giovanissimi e stiamo facendo un percorso di crescita insieme quindi stiamo dando veramente dei bei risultati quindi che vinca il migliore che vinca la sportività che vinca la sportività quella sempre assolutamente sì assolutamente sì perfetto ragazzi allora noi siamo arrivati in conclusione quindi purtroppo ci dobbiamo fermare devo salutare Flavio Biali grazie Flavio grazie Benurtondini grazie Cristel grazie a voi per averci seguito buon proseguimento ci vediamo al prossimo appuntamento con il magazine dedicato alla palata a Morello grazie a tutti